Grazie. Mentre a Rigopiano proseguono incessantemente le operazioni di soccorso, a Farindola e Penne si sono tenuti questa mattina e nel primo pomeriggio i funerali di Alessandro Giancaterino e Gabriele D'Angelo, due delle vittime della valanga killer di mercoledì scorso all'hotel Rigopiano. Dolore composto per i parenti dei due giovani che sono stati fra i primi ad essere estratti senza vita dall'albergo cancellato dalla furia della neve. A Farindola il parroco della chiesa di San Nicola Vescovo, Don Andrea, nella sua omelia ha detto che tanta umanità è una risposta, la condivisione del dolore, l'esserci. Nostro fratello Alessandro non è perduto perché nell'amore di Dio. Alle sequie del maître dell'hotel hanno preso parte fra gli altri il viceministro dell'interno bubico, il presidente della regione Luciano D'Alfonso ed il prefetto di Pescara Francesco Provolo. Appenne nel primo pomeriggio alle sequie del 31enne Gabriele D'Angelo tutta la città vestina si è stretta al fianco della famiglia della vittima. Non è mancato un pensiero per la sciagura aerea della tarda mattinata nell'Aquilano in cui hanno perso la vita sei persone. I volontari della Croce Rossa si donano generosamente e pagano un prezzo altissimo come vediamo per l'elicottero caduto del 118 nell'Aquilano. Queste le parole pronunciate dal parroco della parrocchia di San Massimiliano Colbe, Don Venanzio.